e dall'amata in sinistra potete notare la vittata per San Michele Arcangelo dedicata a San Michele Arcangelo che era il protettore di Rocca Romana prima del porto di San Catardo quindi prima che Lucrezia Camone l'hanno dato per battaglia portarsi al porto di San Catardo nel 1500 a Rocca Romana vedete l'altare è del 1600 c'è una lapide a terra che è trisata nel 1773 luogo di sepoltura dei fratelli e delle solere della congregazione di San Michele Arcangelo e sulla scritta c'è la scritta Quis e Ut Deus che è la frase che esclamò San Michele quando scacciò Lucifero dal paradiso Gratzi 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 Grazie.